E via con i suoi amici? Vuoi vedere? Eh? Vuoi vedere? Sai che vuoi vedere? Dove? E ha letto così? Eh? E ha letto? Eh, controlla, a me non sembra che sia letto. Sì. Non c'è? Dove è? Eh, via con i suoi amici. Torna domani. E con la gaella? Non è con la gaella, la gaella è la cuccia. Eh, qui va ne? Prova a guardare, secondo me non lo trovi. No. Non c'è? Che si va ne? La mia camera? Controlla in camera, ma secondo me non lo trovi neanche lì. No. Non c'era anche qua? No. Non c'era anche qua? No. E dov'è? E qui? Così qui? No. Così qui? Così qui? No. No. Vergine, abbiamo controllato in tutta casa, papà non c'è. Eh, è qui? Paribiteria. Dov'è? Sotto un libro dubito. Guarda? Continuous. Guarda qua dentro? Guarda qua dentro? Sì. Guarda qua dentro? Sì. No. Non c'è neanche qua? No. Chiudi. Chiudi. Dov'è papà allora? Chiudi. è qui sotto il tavolo non c'è Eugenia non c'è papà torna domani papà ma Virginia di sotto non mi sembra che ci sia no Virginia papà è via con i suoi amici torna domani Virginia